Ciao a tutti, oggi siamo qui a Parma alla Fiera del Camper e siamo nel prestigioso marchio Fend. Qui abbiamo tutte le linee, abbiamo la Apero, la Bianco Active, la Bianco Selection, la Tendenza e partiamo, facciamo un piccolo giro e di novità abbiamo che sul grande richiesta è stata riproposta la Bianco Active 495 SFE, che cosa ha di particolare? Di particolare ha la cucina trasversale, comoda, spaziosa, sempre con il nostro frigo a due aperture, ormai tutti i nostri mezzi lo stanno proponendo, molto comodo. Prosseguiamo con tutte le altre novità. Bianco Selection 550, roulotte per le famiglie, con i letti a castello, roulotte per quattro persone o la coppia, con la possibilità della dinette che si diventa un altro letto. Eccoci qui alla Fiera del Camper, vi aspetto numerosi e anche quando è finita la Fiera del Camper vi aspettiamo da noi nel nostro stabilimento di Vicenza, Bonometti, ad Altavilla Vicentina. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!